Ciao a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati in questo nuovissimo video A S M R questa è una dei tantissimi video richiesti che ho ho fatto una lista che prendono qua ho lasciato di là perché l'ho appena scritta con brutta e l'ho stompata e l'ho lasciato di là e questa era una della lista uno dei tanti e ce ne sono altri erano in tutta una ventina però un bel po' li ho già fatti tantissimi video richiesti cercateli qua sotto il mio canale se riesco a ne fare una playlist questa è una video richiesta da Fraffo quindi io ti saluto ciao Fraffo il commento che mi ha scritto è stato davvero bellissimo io l'apprezzo tantissimo davvero ci sono rimasta sciocco quando ho letto perché ero felicissima e tu mi hai chiesto di fare questo video di Don't Clicking con Visual Trigger non mi ricordo di aver deciso in quale video me l'ha scritto ma me l'ha scritto in un video mi ricordo di iscrivervi qua sotto il mio canale attivare la campanella per e lasciare un bel like per sostenere il mio canale e me mi raccomando grazie e vi ricordo anche di lasciare un commentino qua sotto se volete se avete dei video richiesta anche voi o se un'altra persona che me l'ha già chiesta me ne scrivo un altro o me ne scrivo quello che non ho mai fatto quindi iniziamo mi raccomando e ... e ... ... ... .... ... ... C'est postul Un attimino il microfono E un po' fastidio del braccialetto E un po' fastidio del braccialetto 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 Buon appetito! buccio buc Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per avere un suggerito questo video, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao.